buona prima ragazzi qui è giustizio e siamo ritornati in questo nuovo video per il foot birthday foot birthday che è cominciato ieri qui vedrete i migliori pacchetti ho aperto un sacco e ho trovato tipo un tutto vi ricordo di passare tastar select se volete fifa points col coupon lozzano ci avete uno sconto mi raccomando trovate il link in descrizione lozzano tra l'altro è anche foot birthday e in più vi ricordo di scaricare one football migliore applicazione per risultati notizie sul calcio tra l'altro in questi giorni stanno uscendo diversi articoli in cui io sono co artefice su fifa quindi mi raccomando articoli su fifa informativi su giocatori squadre e quello che vi pare quindi anche quello su one football vi ricordo ragazzi che manca pochissimo ai 300.000 iscritti quindi fate l'iscrizione al canale iscrivetevi se non l'avete ancora fatto perché non ve ne pentirete probabilmente ve ne pentirete però sarà troppo tardi buona visione sono rientrato pure io se l'ottavo rete modo fa la sbisci da zero però si lascia stare le sbisci però i pacchi ti devo dai sordi li vuoi sì è andato il primo pacchetto oddio if a walk out cristiano ronaldo bello la grafichina dei pack è fluidissimo ragazzi la grafichina hanno hanno bustati l'hanno bustati ottenere raro oddio stai drogato hanno messo il nostro walk out no non è voi che riesco portiere noia noia sono ripartiti sono ripartiti sono ripartiti ai minuti e chat ai primo è veloci è velocissimo mai stato così fluido i credit bandiera bandiera è tutto luminescente walk out ancora spagna dc sergio ramos e standa per i gruppi reti tex l'hanno aperti walk out ancora texio ci argettina di pala che ho da due banchetti rimanenti a tutti i bandieri era pure se lo scrive se lo no se schifo questo è un food bird e lo scarto ecco non lo scarto no 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 scherzo taglia taglia su burᾀska vtta caplar non si no 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 su youtube su youtube essa taglia sul troppo si fa un montaggio ed ecco finito male no 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 o facciamoli festa duku oddio no 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 nosi sì 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 che sia tuo paio Parad brasile più forte è più forte anche forte di tutti accanto 50 market John 3 K rara una battuta era una battuta Goliardica Si è fermato tutto qua Era una battuta Metti uno al counter Era una battuta goliardica Raga hanno troppato tipo Se impacchi Lo sapevo che stai schippando Era una battuta goliardica Raga no Manda al club No era una battuta goliardica 140.000 2.6% Go Go Bandiera Vabbè grazie al cazzo Walk out Ok schifo 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 Più veloce 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 No zzi è troppo lento Oh Ok 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 Non te ci dà già Ma non è niente Non te ci dà Non te ci dà Se stanno a stucca subito No corri 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 Cavani 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 Secondo pacchetto Io non so che luce facciano Perché quello l'ho schifato Mannaggia a me Non so che luce facciano Rano il fucking cut Oh Buono come il pane Scarta 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 Tutti i doppioni Ok No forse non vanno così veloci Non lo so Forse non è Forse non sta aggiornando Oh Fortwardy Fortwardy No è il più No è il guerriero Guarda che figo Oh mio dio Mio dio Oh mio dio I'm on fire E' il più stupido Ho trovato Dammi un altro duco Correa Dammi un altro duco Dammi un altro duco Dammi un altro duco No che schifo Questo vale 10k Oddio che brutto Vabbè 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 E' azzurra E' azzurra E' azzurrina Come il colore del cielo Il colore del cielo blu Altro pacco Dai da me back to back Back to back Spiace 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 2.6% La percentuale Cosa Il birthday Ti prego Fallo per me Football day ancora Mugnain Ma sto a trovare tutti i più sfigati del mondo No ragazzi Questo era quello che No no ragazzi Li sto a trovare tutti Li sto a trovare tutti E' finita per voi Li sto a trovare tutti Due in un pacchetto Sì Due in un pacchetto Lo so Maximin sotto Maximin sotto I peggiori Vabbè Non mi frega niente Sì Maximin sotto Sisto con sotto Oh L'unice 71 Va bene lo stesso Beh 300k Questo vale Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Ok Come on Ci sto a trovare tutti Ci sto a trovare tutti Vola Vola Ci manca Ligona 16 milioni Ci manca Ligona Ci manca Ligona Ci manca Ligona Ci manca Ligona Ancora Ti prego Francia Questo Grisball Grisball Oddio 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 Che cacchio è successo oggi Ma sì I rupinetti Sono stati aperti Oddio Oddio Metti 4 Fra Ma che cazzo Oddio Oddio Tra 3 giorni Il mio compleanno Mi stanno a fare Oddio Fra io non mi dovrei fermare Tocca Cioè Toccavo là Sì Mi stanno a troppare Sti pacchetti Come mai troppato Prima d'ora Poteva essere Mbappé Oddio santo Si poteva essere Mbappé Poteva essere Mbappé Vabbè 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 Ma che cazzo Mi sto a lamentarsi Bon Mi stare a fa Sono abituato a vedere Fra Il rete lo skip Er mago 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 pacchetti più l'86 più per contenuto l'ottavo re di roma per marco ottavo non e decimo anche ma quanti pacchetti c'hai larry route metto no non metto niente poi dopo mettiamo i pacchetti per day for bird e messico lozano ragazzi poi star select col cupono lozano mazza quanto è larga la carta si mai visto in game quanto è tipo grossa con la media nostri no oddio perché c'è tra pro domani dex guarda la magia sta vedere la mia stream non può sapere guarda che magia faccio vado di voi qua e scompare la torta metto qua e ricompare la torta c'è non c'è c'è il workout va sotto i 200 3 belgio che c'è belgio ci nengola no tt si 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 no 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 si 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 non è quello non è quello non è che va tutto bene ragazzi tranquilli tranquilli e tutto tutto ok e tutto ok Ragazzi scrivete ok in chat per favore Eeeh Incologante La 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 Incologante La 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 Buono 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 Abbiamo scuolato troppo prima Si hanno risucchiato tutto il rubinetto Hanno risucchiato Si se vedo luci strane me ne vado Allora se riesco a riconoscere luci strane Allora quella dei footboard la riconosco sicuro Quella delle icone non lo so Se vedo luci strane vado via Me ne vado E prego qualche mod se c'è di mettere i mottolli Se non c'è la metto io dal telefono Ah no dal telefono no perché vedo Me ne vado e basta e poi torno Te prego Allora già me levo le cuffie si Workout ma non è Non è Oblak sarebbe molto Aia Non sbatte Non sbatte Stupido Che già me so sdrumato una mano Santo cielo Sta andando tutto male No rega mi sa che non droppano più Come on bro Please Football Prego Si 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 me ne vado Prego Non Gaetan Non Mugnain Di gene No Di Gianni ho trovato Che schifo Che schifo Era meglio Mugnain Fucking disgusting mate Fucking disgusting Eh vabbè Eh vabbè Tanto vale Oh porca madosca 70k Papà Ok Ok Grazie.